La Saccenze Letizia Mobilia vince il titolo di Miss Starlet nel concorso Ragazza Cinema Ok 2017 che si è svolto a Caserta. Si è classificata al secondo posto nazionale. La giovane Saccenze farà parte del casting di un telefilm in programma a dicembre alla Regia di Caserta in occasione del ballo delle debuttanti principessa per una notte del noto regista Massimo Civale. Anche vinto Provini e casting per Cinecittà prossimamente sarà convocata presso gli studios di Cinecittà con la compagnia delle stelle di Anna Maria Piva e Eneo Drovandi.